Io credo che l'Italia sia stata ostaggio della destra che ha imposto al Paese una legge elettorale, il porcellum, che è stata una grande umiliazione dei principi democratici, è stata definita dallo stesso autore una porcata. Quindi ho vissuto con molta tristezza la convocazione di tutti gli autori di quel delitto nel tentativo di peggiorare il porcellum. Ecco, veramente non c'è limite al peggio.